tesoro ciao non so quello che mi è successo a me, io che mi impegno studio, lavoro, faccio, scrivo mi impegno anche in palestra, vanno a dire una frase di questo tipo le bollette le abbiamo pagate si si siamo a posto la scadenza era l'11 per la corrente elettrica il gas quello il gas di solito lo paga Guido tra l'altro questo è la giornata che c'è oggi cioè un sole meraviglioso è proprio una bella giornata mi sa che faccio quelle 3-4 lavatrici e metto tutto a stendere che ne pensi? dicevi? siamo così è difficile spiegare